Larkin Street ragazzi, oggi voglio andare a provare un altro spazio di co-working, il workshop cafe che è su Bush Street, che è un 3-4 blocchi più in giù e vediamo un po' com'è. Sono state avvistate in giro per San Francisco le macchine che si guidano da sole, con le telecamere sul tetto, sia dell'Apple che di Google. Spero di beccarne una in giro così la filmo e ve la faccio vedere. Sono delle macchine camuffate con sopra mille sensori sul tetto e si guidano da sole, girano, fanno tutto. Uscito adesso ragazzi dal workshop cafe, per ora è il migliore che ho beccato. Gli darei un bel lotto perché wifi free, postazioni con un sacco di prese per ricaricare il computer, il posto, il design è molto carino, il caffè fa schifo perché ho preso un espresso, fa schifo, però per il resto il cibo ci sta. Per ora questo qua è il numero uno sulla lista, voto otto. Ora si va all'evento su JavaScript da Actor e Actor che è sulla Market, che è questa via qua di San Francisco che è la via, forse la via più grande. Vediamo un po', si parlerà di scope e di altri argomenti interessanti su JavaScript. Ho fatto una bella full immersion oggi pomeriggio per ripassarmi un po' di concetti e vediamo un po' com'è il livello. Uscito dall'evento JavaScript dunque ho capito non tutto, però negli esempi base sullo scope sono andati via lisci.